Isai, io sono te spero, spirito attratto dal film Interact 2, Isai, io sono te spero, è un'inno alla gioia di cantare, perché il canto e la musica liberano una voglia di comunicare. E chi merita della nostra Diana che ci lega il mio dettaglio di questa gioia? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.